Radio Esmeralda con James Barbadoro 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 Grazie a tutti 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 Abbiamo sentito la versione House Soul di Mickey Zara, un DJ del ferrarese che remixa devo dire un sacco di cose belle, se andate nel suo SoundCloud ad esempio troverete una notevole quantità di materiale, c'è veramente tanta roba e ci sono anche alcune tracce da scaricare gratuitamente, come è tutto gratuito quello che arriva tra poco dopo la sigla. Grazie a tutti 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 Un momento Grazie a tutti 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 Don't stop Grazie a tutti 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 Grazie a tutti